All'indomani dei funerali di Maurizio Scotto di Minico, di sua moglie Giovanna e del piccolo Giovanni Giuseppe si sono svolti questa mattina, nell'ultimo dei tre giorni di lutto proclamati per l'intera isola di Ischia, i funerali delle ultime vittime della tragedia di Casamicciola. Oggi parenti e amici hanno detto addio all'intera famiglia Monti nella parrocchia Gesù Buon Pastore. Un ultimo saluto commosso e disperato a Gianluca e Valentina e ai loro tre figli, Michele, Francesco e Maria Teresa, sorpresi nella notte dal torrente di fango e detriti che ha devastato il comune di Casamicciola lo scorso 26 novembre. Vicino alle cinque bare della famiglia Monti, la foto che nelle ultime settimane ha fatto il giro del web, dei giornali e delle televisioni, quella che ritrae genitore e figli mano nella mano e alle loro spalle il panorama isolano. Sempre nella stessa parrocchia alle 11 è iniziata la funzione in memoria di Nicolinka Ganceva Blagova, la donna di origine bulgare che era arrivata sull'isola verde per iniziare una nuova vita col suo compagno. Sono previsti invece per le 4 di questo pomeriggio i funerali di Maria Teresa Arcamone, l'ultima vittima della tragedia, ripescata dalle macerie a più di dieci giorni dal disastro. Le esegue della trentenne si terranno in forma privata nella basilica di Santa Restituta, nel comune isolano di Lacquameno, in una ischia in cui, per la giornata odierna, vige l'allerta meteo di colore arancione e si continua a vedere andare avanti le operazioni di evacuazione dei residenti delle aree a rischio frane. La zona rossa, che circoscrive via Celario e via Santa Barbara nel comune di Casamicciola, non è sicura. Pioggia come quelle previste per oggi fa sapere il capo della protezione civile della regione Campania, Italo Giulivo, potrebbero innescare nuove frane.